Buongiorno amiche e buongiorno amici bianconeri, bentrovati giovedì 21 marzo di primo mattino qui sul canale per un contenuto il cui protagonista è Max Allegri, ma non scappate perché pur comprendendo che l'argomento Max Allegri possa aver stancato, sappiate che terra banco ancora per un bel po' di tempo, nonostante in fondo alla stagione resto convinto, assolutamente convinto che ci sarà il cambio della guida tecnica, ma l'argomento è diciamo in una visione differente rispetto a come l'abbiamo raccontata fino a ieri e siccome sapete che mi piace non essere assolutista, totalitario, ma cercare di sviluppare un pochino i discorsi un po' attorno a tutte le situazioni ma soprattutto avere le visioni della situazione in questione, in questo caso Max Allegri, da più punti di vista e siccome ho avuto la fortuna di confrontarmi con persone che vivono l'ambiente Juve, vicine al mondo Juve ma non solo, vicine al mondo calcio e vi posso garantire che è stata data una visione che peraltro già avevo valutato ma l'ho approfondita di Max Allegri nella veste di così, di Uomo solo e allora come cantavano i Poo nel 1990 con Uomini soli con cui vinsero l'allora edizione di Sanremo ecco faccio un po' una riconduzione di questo brano su Max Allegri, Uomo solo non solo inteso chiaramente sarcasticamente come in tanti magari possono aver commentato già in passato e magari faranno ancora, vorrei essere solo come lui, a 7 milioni di euro netti a stagione più 2 di bonus parliamo di cose serie nel senso non dall'atto economico ma da un punto di vista della gestione di una situazione difficile, complessa nella quale come già più volte abbiamo sottolineato anche su questo canale la Juve è una società oggi con una proprietà particolarmente assente allora sviluppiamo tutto questo, mi raccomando, iscrivetevi al canale, azionate la campanella di notifiche mettete un bel pollicione verso l'alto in fondo alla puntata sperando che questa possa essere stata di vostro gradimento dunque perché voglio così dare questa visione diversa di Max Allegri che sia chiaro non ve la do per giustificare la mancanza di gioco, la pochezza dei risultati nella maniera più assoluta e quindi non è un contenuto volto a sminuire quello che di poco di buono abbiamo visto fino ad oggi e che abbiamo anche commentato che io stesso ho commentato però va detta una cosa perché io ho sempre così preso le distanze dagli insulti nei confronti di Allegri da coloro i quali hanno sempre sminuito le qualità, le capacità, le vittorie di Max Allegri perché ho rispetto di chi comunque svolge un determinato tipo di lavoro ho rispetto di chi comunque ci mette passione ho rispetto di chi comunque ha portato risultati in passato, vittorie e quindi non mi piace sminuire tutto questo però ho evidenziato e l'ho detto io sarei per il cambio e auspico che la Juventus proceda al cambio della guida tecnica ma la visione di Allegri uomo solo è determinata dal fatto che oggi Allegri fondamentalmente rappresenta la Juventus io non so se voi avete fatto caso dopo la pessima prestazione della Juventus contro il Genoa chi è andato a parte Allegri a parlare davanti alle telecamere ragazzi davanti alle telecamere si è presentato Miretti classe 2003 senza nulla togliere a Miretti a cui auguro di poter compiere una carriera in stile marchigio e quindi diventare una colonna portante del centrocampo della Juve diventare un elemento di riferimento per i giovani che si affacceranno al calcio, all'ambiente Juve a cui auguro di poter veramente diventare una colonna del centrocampo della Juve però oggi in un momento così difficile da punto più basso delle ultime stagioni la Juve manda Fabio Miretti classe 2003 parla davanti alle telecamere questo non fa altro che confermare quanto è rilevato nei precedenti contenuti di una società assente, di una società che purtroppo dà la grande impressione ti dà quella malsana sensazione di abbandono, di disagio e in tutto questo Allegri si sta sobbarcando tutto quello che in casa Juve non funziona per cui sì, sono per il cambio della guida tecnica, non c'è dubbio sono per aria fresca, idee nuove, situazioni nuove, non c'è ombra di dubbio però attenzione, l'ho già detto e lo ripeto se la proprietà non si paleserà, se la proprietà non deciderà di rafforzare l'area societaria che per quanto sia rappresentata da Gianluca Ferrero presidente da Maurizio Scanavino, amministratore delegato e poi dal responsabile dell'area tecnica, il direttore Cristiano Giuntoli resta a mio modo di vedere una società terribilmente debole e quando c'è una società terribilmente debole tu in panchina puoi avere anche il Papa con tutto il rispetto per il Papa, sia chiaro che probabilmente non arriverai mai ad una quadra non otterrai mai dei grandi risultati quindi Allegri è sì responsabile, ma Allegri oggi è un uomo solo è un uomo che non ha alle spalle una proprietà forte, una società forte e che si sobbarca a tutte le problematiche e che quindi questo sobbarcarsi a tutte le problematiche lo ha reso nervoso quando ha dovuto gestire la questione relativa all'inchiesta Prisma, al plus valenza e quant'altro a punti di penalizzazione e quant'altro e lo avete visto come comunque è stato signore e uomo nel tenere la barra dritta, nel condurre comunque la Juve ad un apposizionamento in classifica che probabilmente avrebbe ucciso un toro e invece la Juve tutto sommato la sua qualificazione al Champions l'aveva presa ribadisco, non sono qui a difendere Allegri sono qui per dirvi che ovviamente dopo anche tante chiacchierate private mi è stato detto appunto che Allegri sì, con tutte le sue difficoltà, i suoi limiti, le sue pecche è comunque la Juve, oggi rappresenta la Juve oggi è l'unico all'interno della Juve ad avere realmente tolto il direttore Cristiano Giunturi che è certamente arrivato con grande entusiasmo e che vorrà fare il meglio per la Juve è realmente l'unico uomo che rappresenti la Juve e quindi nonostante tutto, nonostante tutte le difficoltà, le nefandezze dal punto di vista delle prestazioni che abbiamo visto è sicuramente un uomo solo e non bastano le parole dell'amministratore delegato di cui abbiamo parlato ieri relativamente al Juventus Business Forum dove ha confermato Allegri, dove ha dato massimo supporto a Allegri dove si è palesato come dirigente in qualità di amministratore delegato della proprietà della Juventus a far sì che ci sia una società forte alle spalle perché non è la figura di Scanavino, non è la figura di Ferrero senza nulla togliere agli Scanavino e Ferrero la figura di una società forte alla Juve manca tremendamente una figura qual era in passato l'avvocato Gianni Agnelli qual è stato il dottor Umberto Agnelli qual è stato? Andrea Agnelli perché non so se vi ricordate quando dopo AIFA Andrea Agnelli andò davanti ai microfoni a parlare in qualità di presidente ma in qualità di uomo Juve di vero uomo Juve oggi John Elkan, tanto per fare un nome lo avete visto palesarsi nei momenti di difficoltà a rassicurare, a battere i pugni? No, non c'è oggi una società forte alle spalle di un allenatore che è in difficoltà, che è in confusione che auspico possa essere sollevato a fine stagione ma va detto che molto spesso noi critichiamo io stesso sono uno di quelli un allenatore che ripeto, mi è stato detto credimi, è un uomo solo è un uomo solo che rappresenta la Juve e non ha il supporto che meriterebbe un allenatore della Juventus ditemi la vostra, ci sentiamo presto, come sempre fino alla fine, forza Juve, ciao!